Ci siamo visti già domenica, insomma, si continua sulla strada iniziata e battuta da inizio stagione. Insomma, questo campionato ormai tra i dettagli lavori e anche tra qualche tifoso si dice che è solo il Verona che lo può perdere questo campionato. Beh, sicuramente noi conosciamo la nostra forza, conosciamo fin dove ci possiamo spingere. Insomma, sappiamo che, sì, magari diciamo che ci possono essere altre squadre che possono darci fastidio, però diciamo che hai ragione sul fatto di dire che se questo campionato non dovesse andare bene, maggior parte è colpa nostra, quello sicuramente. Ieri c'è stato un bellissimo contatto per te, la prima volta per l'antistadio, con 500 e passa tifosi anche, giorno di festa, la prima nebbia non a caso il primo novembre, insomma, però ciò nonostante c'è stato l'abbraccio di Verona. No, no, beh, è stato bellissimo perché comunque sì, abbiamo fatto allenamento all'antistadio, in città, dove appunto sono venute a vederci tante persone ed è stato bello perché comunque sia nel bene che nel male è giusto avere, secondo me, un... star vicini comunque alla città, sentire la gente, cioè, proprio star vicini, secondo me, fa bene a entrambe. Ecco, nel tuo sinistro invece di domenica, complice anche il portiere che, insomma, ti ha agevolato l'esultanza, però, insomma, segnare è sempre bello, specialmente il Bente Godi, il secondo gol per te in campionato dopo quello di Terni, insomma, questo Verona ha ancora tanto da dare e tanto da crescere, però, ripetiamo il discorso di base, insomma, la strada intrapresa appare sempre più quella giusta. Sì, sì, no, beh, la strada è sicuramente quella giusta, anche perché oltre ai risultati che comunque sono la cosa più importante, anche le prestazioni, anche quello che stiamo facendo, sta andando bene, quindi la strada è quella giusta, continuiamo, naturalmente far gol è sempre bello, e quindi niente, cerchiamo di andare avanti, sapendo che è un campionato lungo, sapendo che ci saranno tante insidie, ma rimanendo concentrati su qual è il nostro obiettivo e su qual è il, come posso dire, il nostro, sì, il nostro obiettivo, diciamo. Secondo te il tifoso del Verona ha visto il vero Lucas Filigardi o ti manca ancora qualcosa per dimostrare tutte le tue qualità? Beh, naturalmente... Sei iniziato a parlare dell'anno scorso? No, 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 beh, io mi riferivo più che altro alla passata stagione, cioè a quelle comunque che ho fatto a Livorno, dove comunque ho fatto bene. È naturale, sei comunque a Verona, sei magari conosciuto, nel senso calcisticamente, come le abilità, eccetera, e quindi può essere che quest'anno faccia più fatica, perché insomma comunque ti conoscono, però è naturale che io cercherò di dare sempre il 100% come ho fatto, e naturalmente cercare di dare ancora qualcosa in più a livello anche di gol, di assi, insomma, a livello comunque di contributo per la squadra. Insomma, su tutti Gianpaolo Pazzini, va bene, le ultime due giornate è rimasto a seco, però insomma un avvio a dire poco strepitoso, 11 gol, capocannoniere. Cosa vuol dire giocare e poter fornire assist anche appunto a un giocatore della caratura e della qualità di Gianpaolo? Beh, insomma, giocare con Pazzini come era giocare l'anno scorso con Luca è sicuramente uno stimolo importante, quindi sai che davanti appunto hai un giocatore forte, hai un riferimento che può appunto, io non mi stupisco il fatto dell'avvio di campionato, anzi, ne ero certo e quindi ci dà carica, ci dà sicurezza e quindi sappiamo che comunque possiamo contare su di lui e noi vogliamo che comunque continui così perché trarrà beneficio a tutti. Adesso passiamo anche ai colleghi, ultima battuta, un giocatore che in questo momento sicuramente è sulla bocca di tutti e tra un po' sarà al 100% un giocatore del Verona è Daniel Bessa, che sta dimostrando anche lui davvero qualità molto importante. L'ho visto l'anno scorso in qualche partita col Como e già lì appunto mi aveva impressionato, ripeto, anche su di lui non mi stupisco di questo, di come sia, anzi, appunto vedendo l'anno scorso e sentendone parlare, io ero sicuro che sarebbe arrivato un giocatore comunque forte, nonostante sia giovane, ma appunto non di esperienza, però comunque un giocatore che la categoria la conosce già. Ciao Luca, ringraziando Guerrieri perché insomma è sceso un po' pianino, però abbiamo visto quasi un gol alla Siligardi perché insomma il movimento è quello, col tiro da fuori vuol dire che stai meglio. Sì, è quello che poi alla fine mi ha sempre chiesto il mister, è naturale che più tiri e più possibilità di far gol, però ripeto, sono comunque un giocatore che ormai ha fatto la B da un po', quindi insomma sanno le mie caratteristiche, quindi ci sta che faccia più fatica, però comunque io cerco di andare avanti e far sempre quello che ho fatto con appunto le mie, con quello che mi ha contraddistinto finora. A proposito di gol, negli ultimi due campionati sei sempre andato in doppia cifra, ti tocca andarci anche quest'anno? Ah, per forza, per forza, no no, l'obiettivo è quello di andare in doppia cifra, spero di arrivarci il prima possibile e spero di arrivarci in maniera utile ecco alla squadra, cioè nel senso che non siano gol, non dico banali, perché non sono mai banali gol, però comunque siano d'aiuto alla squadra. Magari segnandone già un altro controllo Spezia di uno dei tecnici che ha avuto, perché c'è Mimmo Di Carlo se non sbaglio, giusto? Sì, sì, l'ho avuto a Livorno e comunque sì, già a Spezia sarebbe bello continuare a segnare, cioè trovare appunto la costanza di segnare o comunque di essere un giocatore che può spaccare la partita, che può comunque esatto indirizzarla più a nostro favore. Conoscendo il mister Di Carlo, che Spezia ti immagini di trovare, perché l'andamento è un po' vario. Sì, ma comunque ci aspetterà una partita non difficile di più, penso, perché appunto giocando la Spezia è una bolgia, è una bolgia, cioè giocandoci contro a Livorno ho visto che è proprio una partita a sé, cioè proprio non so come dire, fai proprio fatica perché giocano proprio in maniera aggressiva, però noi dovremmo cercare comunque di essere più forti, di imporre il nostro gioco come abbiamo fatto finora, sia in casa comunque e soprattutto in casa e fuori casa. A proposito di mister, ti chiedo di Pecchia, perché lui ha sempre speso grandi parole per te e lo dimostra anche con i fatti di credere in te. Tra i tanti allenatori che hai avuto, hai avuto anche Conte, Mancini, insomma, come li stavo guardando prima, somiglia a qualcuno a Pecchia? Beh sì, Mancini l'ho avuto relativamente, nel senso che comunque è un allenatore che mi ha aiutato quando comunque ero ancora ragazzino, insomma, mi parlava, mi aiutava. Ma io in Pecchia rivedo un po' anche, diciamo, soprattutto come paragone Nicola, perché comunque mi dà la possibilità di essere costante appunto nel giocare, cosa che magari allenatori prima non facevano tanto. E quindi anche se magari sbagliavo la partita, lui la volta dopo mi dava la possibilità di rimettermi in gioco. Quindi per me è importante avere, secondo me, un allenatore di questo tipo perché mi può aiutare, mi può aiutare perché magari sono un giocatore che a volte se fa la partita così e così, la volta dopo se viene messo in panchina fa un po' più fatica. Però invece vedo che, anzi, sono molto contento perché appunto mi dà la possibilità di rifarmi subito. Una battuta, visto che è diventato papà, Gennaro, tu sei già papà, gli hai detto di mettere la testa a posto adesso. No, vabbè, ma Gennaro è un bravissimo ragazzo. Quello che fa è perché comunque è così, cioè proprio spontaneo, ma quando è ora di fare le cose sul serio è proprio una persona seria, proprio cambia persona. Ciao Luca, d'accordo Bessa, d'accordo Romulo, tanti altri campioni come Pazzini in questo Verona, però sei consapevole, probabilmente anche l'atteggiamento del mister, che sei l'unico giocatore della Rosa che ha certe caratteristiche. Mi riferisco soprattutto nell'uno contro uno e nel dribbling stretto. Sì, no, è una cosa che comunque il mister mi dice, me lo ricorda spesso e quindi appunto so che quando magari ci sono delle partite dove non mi riescono certe cose mi dispiace perché comunque appunto si aspettano sempre quel qualcosa in più da me dove appunto per via magari degli avversari, magari per via di altre cose, faccio fatica ed è una cosa che poi porto avanti nei giorni successivi perché comunque voglio essere un giocatore determinante per questa squadra perché comunque so che i miei compagni credono in me, credono nelle mie caratteristiche come l'allenatore, quindi tante volte appunto me lo ripeto anch'io. Ecco, con Ficca Denti vedemmo una da Hilton partire sempre a destra ed essere devastante, no? Proprio per il rientro di sinistro. È una posizione che predirigi anche tu oppure magari per l'economia della squadra ti piace o il mister ti chiede magari di andare sul fondo o sulla sinistra? No, no, il mister mi ha sempre detto che posso giocare in tutti i ruoli davanti quindi è naturale che lui magari giustamente cerca di sfruttare di più le mie qualità appunto che venire dentro, calciare, venire dentro, mettere cross, insomma cercare delle giocate che magari a sinistra dove comunque posso, sono un po' più limitato ecco è il discorso poi dell'anno scorso. Però in qualsiasi ruolo io venga messo cerco di fare appunto sempre quella differenza per poter dare una mano alla squadra. Ecco, sulla carta delle prossime quattro partite probabilmente è sulla carta il turno più agevole magari è in casa con il Novara. Voi vi siete fatti un'idea? Non dirvi di no che non fate i calcoli perché tanto parlate negli spugliatoi di queste cose? Ma no, non è tanto questione di calcoli noi sappiamo che ogni domenica c'è una partita, c'è una battaglia non andiamo a fare ma c'è il Novara, ma può essere quell'altro, quest'altro noi sappiamo che domenica e sabato c'è lo Spezia ci aspetta una partita difficilissima quindi intanto pensiamo allo Spezia e poi dopo una volta finita la partita di Spezia penseremo a quella successiva. Ciao Luca, una battuta sola. Si parlava un po' di singoli e dell'importanza del centrocampo anche e soprattutto per voi e il vostro rifornimento. Un altro che si sta distinguendo molto bene mi sembra è Fossati. Ah beh sì sì, io quest'anno secondo me appunto abbiamo un centrocampo veramente di tanta qualità perché comunque tutti compreso anche Maresca quando c'è o appunto Zaccagni, Valotti insomma sono tutti giocatori che quando vengono tirati in causa hanno la personalità giusta per far bene. Marco l'anno scorso ha vinto un campionato, l'ha vinto da protagonista perché secondo me è stato uno dei protagonisti appunto della salita in Serie A e per noi è un giocatore fondamentale perché comunque ci dà sia equilibrio ma la possibilità anche di spingere nel momento giusto. Grazie. Pensa che io volevo chiederti dell'autostima, no? Quanto è la tua autostima? Poi hai detto, voglio andare in doppia cifra, l'ho detto di me, ho detto no, allora ne ha di autostima. Poi però hai detto della continuità e allora la domanda mi... Sì, no, no, l'obiettivo è quello assolutamente di arrivare in doppia cifra però per arrivare in doppia cifra appunto mi serve questa continuità che magari adesso sto pagando un po', ecco. Non magari, cioè più che altro a livello di gol perché come prestazione... No, però aspetta un attimo Luca, io volevo chiederti, tu credi in te stesso? Quanto credi in te stesso? Ah, io credo... Ah, da uno a dieci? Dieci. Dieci perché so che il mio trascorso comunque... Non dico parla da sé, però comunque qualcosa l'ho fatto quindi ogni volta ripenso a quello che ho fatto anche se magari dicono, eh vabbè ma il passato è il passato. Sì, il passato è il passato, però quello che ho fatto comunque posso rifarlo e posso fare ancora meglio. A 28 anni sei contento di tutto quello che hai fatto? Sì, alla fine sì perché se sono qua ho fatto delle cose bene, degli errori e quindi secondo me io sono contento, non mi rimpiango niente. Per esempio però, essere un giocatore da Serie A può essere un bel obiettivo per te perché se no c'è anche il rischio che tu venga catalogato come l'esperto della Serie B l'hai detto anche tu prima. No, 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 certo. Invece probabilmente secondo me hai delle qualità anche per esperimenti in quel campionato. Eh sì, quello che speravo appunto magari quando sono arrivato l'anno scorso era appunto di consolidare questa cosa qui, di comunque diventare un giocatore da Serie A ecco, no, magari fare un anno in A, un anno in B. però è vero anche che sì, l'anno scorso diciamo che ho fatto fatica, ho fatto fatica come magari tanti miei compagni quindi insomma, come posso dire, è naturale che l'obiettivo è quello di diventare un giocatore di Serie A nonostante comunque sia 28 anni, c'ho ancora margine per poter comunque diventarlo però è vero che magari l'obiettivo era quello di diventarlo un po' prima Cos'è che ti manca? Cioè, perché non trovi la continuità? Ti manca il gol? Sei estroso e quindi vivi anche di emozioni felici, no? Che ti dà il pubblico, credo che domenica eri felicissimo, ti ho visto quando sei uscito con quell'applauso No, no, beh, è bello, assolutamente Allora, prova a aiutarmi a capire Cioè, a te piace esaltarti nella giocata e quindi... Sì, no, beh, magari quando capita che la giocata non mi viene non che mi deprima, per l'amor del cielo però capita che magari la giocata dopo se la riprovo non è detto che venga, quindi faccio magari fatica su quello devo cercare di essere un po' più mennefreghista, ecco, ma con me stesso perché so che appunto quando mi viene la giocata so che comunque dopo lo stadio ti spinge, eccetera ti dà ancora più carica quindi forse sono un po' schiavo di me stesso su questo fatto qua Al di là della continuità che hai detto, no? Pecchia che cosa ti ha dato dal punto di vista tattico? Per esempio, io non riesco mai a capire dove giochi nel senso che un colpo giochi di qua un colpo tra le linee, un colpo a destra, un colpo a sinistra ti aiuta questo? Sì, lui mi dice comunque di... a volte mi dà delle direttive nel senso magari stare un po' più largo, stare un po' più in mezzo però dopo sta a me comunque cercare la posizione in campo e la posizione in campo la trovo in base anche agli avversari perché alla fine noi proviamo, proviamo tante cose ma alla fine quando c'è gli avversari può essere che magari hai provato una cosa e ne succede non totalmente un'altra però comunque può essere che qualcosa cambi quindi io giro giro per cercare la posizione migliore come per dire quella di sabato che invece che andare a Lagos sono rimasto in mezzo e ho calciato Sei felice di essere restato? Assolutamente anche perché mi voglio riscattare comunque dalla passata stagione Grazie a tutti